Presidente Frattura, soddisfazione oggi per la visita del Presidente Mattarella? Devo dire una gioia, oltre che una soddisfazione, aver avuto la possibilità di condividere con il Presidente della Repubblica che cos'è il Molise e ascoltare dalle parole del Presidente della Repubblica concentrazione sulla non omologazione di questo Paese a favore dell'attenzione per le aree interne. Ritengo che per una regione di aree interne come il Molise non possa che essere uno straordinario messaggio. Tensione per le aree interne e anche una valenza all'Università del Molise che oggi ha inaugurato un nuovo centro di ricerca? Sì, un nuovo centro di ricerca proprio per le aree interne e per l'Appennino, quindi ancora una volta centrato il tema del giorno con le problematiche che in questa difficile fase di riorganizzazione proprio della regione stiamo vivendo.